I per te invasi dalle striscette per i denti. E che fai? Non le vai a comprare perché le tue erano già finite, perché tu le già le usavi, però non vai a prendere quelle nuove? E certo che ci vai. E che fai? Non fai un video mentre le usi così? Magari le altre persone non possono cadere in questo tranello che è il comprare cose viste su TikTok? Ok, le usiamo. Da premettere che le avevo già usate queste qui, ma hanno fatto un upgrade, un aggiornamento, perciò dicono che sono migliori di quelle di prima. Proviamo. Allora, nella scatola escono questa e questo. Questo sarebbe uno shot di colluttorio. Queste sono le strisce da mettere su e giù. Adesso facciamo la combo di entrambi. Intanto andiamo a mettere questo perché non so minimamente di cosa sappia, visto che è un aggiornamento nuovo. Questa cosa è molto strana da fare, perché un colluttorio... Ok. Vediamo di cosa sa. Ok, la forma del colluttorio non è cambiata allo stesso gusto, uguale, identico. Però vi dico, mi chiedo, perché fare la stessa forma del Gavix? Cioè, del Gavisco. Cioè, io potrei avere questo in bagno un giorno e usarlo come colluttorio. Cioè, non capisco perché fare ste robe. Vabbè, vabbè, andiamo a provare ste robe. Allora, sì, si presentano praticamente uguali a quelle di prima. Cioè, io non vedo nessun tipo di cambiamento. Magari sono nella potenza. Si presentano in questo modo qui, adesso le applichiamo, vediamo. Allora... Allora... Ok. Ok. Gusto uguale. Anche se i denti prima di applicarlo. Così in caso possiamo vedere la differenza. Mettiamo quella giù e... Dio mio. La scelta. Perché... Deve essere i denti stra... Stra, stra asciutti. Ok, non si attacca. L'attacco arriva. Ok, li ho messi entrambi. Perché parlo così? Ok. Li ho messi entrambi e... Mentre aspettiamo... C'è scritto 10 minuti. 15. E vediamo la differenza. Ok, le ho tolte. Sono andato a lavare i denti perché vi rimangono praticamente tutta questa... Questo composito dentro che è bruttissimo. E quindi dovete sciacquare i denti appena li togliete. Guardate un attimo. Non noto differenze tra quello di prima e quello di adesso. Magari nel tempo riuscirò a notarle. È sempre un ultimo prodotto perché ho sempre comprato questo. Quindi ve lo consiglio. Non sono un dentista ovviamente. Cioè ognuno fa quello che vuole. Io lo faccio nei miei denti e buona. Che niente.